Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale ITV City, in apertura sempre all'emergenza sanitaria, con la stretta del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, da oggi chiusi lungomari e parchi pubblici. E siamo stati invece fra le strade di Torre del Greco, dove i cittadini non sembrano voler rispettare le disposizioni della zona rossa, mancano anche controlli adeguati a far rispettare le norme. Con le nostre telecamere siamo poi andati al centro vaccini della Santissima Trinità, si procede a ritmo serrato e l'obiettivo è quello di raggiungere le 200 vaccinazioni al giorno. Passiamo ora alla cronaca, con i carabinieri che hanno arrestato nel napoletano sette persone per spaccio e rapina. La polizia invece ha arrestato tre minori e due ventenni a Casoria per una violenta rapina ai danni di un motociclista. In conclusione, la circunvisoviana di Torre del Greco, stazione Sant'Antonio, ancora chiusa per i numerosi atti vandalici, riaprirà soltanto quando il comune disporrà un sistema di videosorveglianza. Questo ed altro nei nostri servizi. Stretta di De Luca, chiusi lungomari e ville comunali, chiusura al pubblico da oggi fino al 21 marzo in tutta la campagna di lungomari, piazze, parchi urbani, ville comunali, e giardini pubblici. Dal 12 fino al 21 stop a fiere e mercati, compresi quelli rionali o settimanali, anche per i generi alimentari. Lo prevede la nuova ordinanza firmata ieri dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Risulta indispensabile scongiurare i rischi connessi agli assembramenti ed affollamenti nei luoghi pubblici, annuncia il Governatore, mentre si raccomanda alla popolazione di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio contesto abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile. Nell'ordinanza si cita l'ultimo report previsionale elaborato dal Ministero della Salute, che per la Campania, proietta i dati relativi agli indicatori di sorveglianza a valori DRT pari a 1,76, mentre il rischio di soglie critiche di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva disponibili a livello regionale nei prossimi 30 giorni supera la probabilità del 50%. Dura la critica del Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Trovo questa ordinanza veramente incomprensibile perché limitare durante una fase in cui le giornate iniziano ad essere più miti la possibilità delle persone di camminare, ad esempio in un grande parco all'aperto dove non c'è il rischio di contagio, e invece chiuderle nei luoghi in cui c'è maggiore diffusività, è incomprensibile, non solo sul piano ordinamentale, politico e dei diritti costituzionali, ma sbagliato anche da un punto di vista sanitario. Questa ordinanza, conclude il primo cittadino, non mi convince e non la trovo necessaria ed efficace. Il Sindaco, nel ricordare che Napoli e la Campania sono già in zona rossa con forti restritti, ha aggiunto, De Lucas è abituato a questo suo modo di operare, per cui lui partecipa alla conferenza Stato-Regioni, annusa quello che più o meno è l'orientamento del governo e lo anticipa con un effetto politico a sorpresa di propaganda. Campania, zona rossa. I cittadini di Torre del Greco si dividono a metà tra chi supporta e condivide la zona rossa, ma chiede maggiori controlli ad oggi pressoché inesistenti, ad eccezione fatta di qualche pattuglia della municipale. È un'altra parte di cittadini che invece chiede un supporto economico per le continue chiusure delle attività commerciali che da circa un anno si verificano. Torre del Greco, da lunedì 8 marzo, è entrato in zona rossa, la fascia più restrittiva prevista dal governo che vede la chiusura delle attività commerciali di abbigliamento, centri estetici, barbieri e parrucchieri. Oltre al servizio esclusivamente di asporto per le attività di ristorazione e bar, attivo fino alle 18, dopodiché consegna a domicilio senza limiti di orari. I cittadini possono circolare solo con valido motivo e muniti di autocertificazione. Nonostante ciò, le persone in strada non sono di certo diminuite. Gruppi al di fuori di bar e nelle piazze, alcuni con mascherine abbassate. I controlli sono rari e si limitano a qualche pattuglia della polizia municipale che timidamente circola nelle strade del centro. Una zona rossa che viene letta in modo errato dai cittadini, complice anche la primavera ormai alle porte e giornate di sole che si prestano a quattro passi in centro. L'obiettivo è raggiungere 200 vaccinazioni al giorno. Nuovo sopralluogo di TV City questa mattina nei locali della Santissima Trinità, Torre del Greco, concessi dall'amministrazione comunale all'ASL per dare avvio alla campagna vaccinale sul territorio. Dopo l'apertura sabato mattina alla presenza anche del sindaco Giovanni Palomba e della consigliera regionale Loredana Raia, si procede a ritmi serrati con le vaccinazioni degli over 80 e contemporaneamente anche delle forze dell'ordine. Ai microfoni di TV City fa il punto il dottor Ivano Auscello. Sabato mattina abbiamo iniziato le vaccinazioni agli ultraottantenni qui a Torre del Greco. stiamo procedendo ad un buon ritmo alla media di 120-150 vaccinazioni al giorno. Contemporaneamente stiamo vaccinando anche le forze dell'ordine. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere perlomeno le 200 vaccinazioni al giorno che ci prefissiamo di raggiungere a breve anche nella prossima settimana. E come stanno rispondendo i cittadini di Torre del Greco? Fino adesso non abbiamo avuto nessun dirigo. Stanno aderendo tutti quanti alla campagna vaccinale grazie anche all'ottimo lavoro che è stato effettuato dai medici di base sul territorio che hanno persuaso quelli che avevano qualche perplessità in merito alla tipologia di vaccino da somministrare. Attualmente stiamo vaccinando gli ultraottantenni con il Pfizer-BioNTech e le forze dell'ordine invece con l'AstraZeneca. Intanto una nuova richiesta di chiarimento in merito alla campagna vaccinale nei locali della Santissima Trinità arriva questa mattina dal sindacato anziani della CGL. Ci giungono diverse segnalazioni di anziani che non hanno capito se devono recarsi a Torre del Greco o nei centri vaccinali di Pollena e Gragnano. Spiega il responsabile Pietro Panariello e quali siano i requisiti delle convocazioni inviate dalla piattaforma regionale. Per questo abbiamo scritto al direttore del nostro distretto sanitario per avere informazioni chiare e precise. Gli over 80 già hanno numerose difficoltà per prenotarsi sulla piattaforma e sono costretti a rivolgersi ai patronati. Non tutti hanno la possibilità e i mezzi per raggiungere punti vaccinali più lontani. La nostra richiesta è sempre la stessa, conclude Panariello, e cioè che siano vaccinati nei locali della Santissima Trinità. Una scelta strategica, aveva dichiarato la RAIA in occasione dell'apertura. Visto che Torre del Greco è un comune con un'alta densità abitativa, si prevede l'individuazione di altri centri vaccinali sul territorio? Per il momento questo è il sito, anche perché è stato pensato un luogo strategico, centrale e soprattutto non lontano dal presidio ospedaliero. Quindi questa è stata la scelta fatta tra ASL e Comune che, devo dire la verità, trovo una scelta molto oculata. Da questo, insomma, va la pena che sottolinei e evidenzi che, se pensiamo a Napoli, l'unico centro vaccinale l'ha mostrato il tremare. Eppure Napoli, insomma, ha circa un milione di abitanti, 900 mila. Quindi, tutto sommato, riteniamo che il centro vaccinale possa soddisfare con l'implementazione dei turni e con l'arrivo dei nuovi vaccini, le nuove dosi di vaccini, tutte le esigenze della popolazione. Questa mattina, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i carabinieri della compagnia di Giuliano in Campania hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di sette persone, di cui due in carcere, quattro agli arresti domiciliari e uno dell'obbligo di firma, di età compresa tra i 21 e 32 anni, residenti in Casandrino, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, fulto ed estorsione. Le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Grumo Nevano tra settembre e dicembre 2019, attraverso l'installazione di telecamere nascoste e di intercettazioni telefoniche, hanno consentito, anche grazie a numerosi servizi di osservazione e pedinamento, di verificare una regolare e costante attività di spaccio operata dagli odierni indagati. In particolare sono stati individuati e documentati numerosi episodi di cessione di sostanza stupefacente, hashish e cocaina, in due piazze di spaccio nel comune di Casandrino. L'attività investigativa ha permesso di raccogliere altresì plurimi elementi iniziari, confermati dal GIP che ha emesso il provvedimento in relazione alle condotte poste in essere dagli indagati per i reati loro ascritti. In particolare, in un'occasione rivolgevano gravi minacce nei confronti di un acquirente che non era riuscito a saldare il prezzo per l'acquisto della sostanza stupefacente. Perpetravano presso un'agenzia di scommesse nel comune di Casandrino un furto aggravato della montale di Euro 7600. Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito due ordinanze di custodia catolare nei confronti rispettivamente di tre minori e di due napoletani di 20 e 21 anni, tutti gravemente indiziati di rapina aggravata. Gli stessi sono indagati in ordine ad una rapina commessa in via Giovanni Pascoli a Casoria la notte tra il primo e il 2 gennaio scorsi, quando alcuni individui a bordo di motocicli hanno avvicinato un uomo a bordo di uno scooter e dopo avergli tagliato la strada lo hanno bloccato e percosso, minacciandolo con una pistola e impossessandosi del suo veicolo. Le indagini sono state avviate a partire da un analogo episodio avvenuto circa un'ora dopo incalata a Capodichino a Napoli ai danni di un rider e hanno permesso di raccogliere elementi anche in relazione a questa rapina. Gli odierni indagati in particolare avrebbero utilizzato lo scooter rapinato a Casoria per commettere la rapina successiva. Chiusa la stazione di Sant'Antonio, comune cerca soluzioni. Quella della stazione della circunvesuviana di Sant'Antonio a Torre del Greco è sempre stata una situazione critica. L'intera struttura è stata più volte teatro di atti vandalici ed incuria, complice alla zona periferica e poco visibile in cui è situata. Le aggressioni si sono abbattute ultimamente anche sui treni in transito ad opera di ignoti. Lo comunica Leav che proprio a caso di questi incidenti si è vista costretta a chiudere la stazione per evitare altri danni alle proprietà aziendali. Una decisione drastica che però lascia l'intero bacino di utenza della zona privo di una fermata e quindi di un fondamentale collegamento con i comuni limitrofi. La gente di Sant'Antonio, della Litorale e della Nazionale, è costretta a prendere il treno nelle stazioni del centro o in zona Leopardi, ben lontane da casa. Per questo motivo il comune di Torre del Greco sta cercando una soluzione insieme ai vertici EAV, ieri il primo tavolo di incontro a Palazzo Baronale. Un esito positivo per l'amministrazione, la stazione potrebbe riaprire a breve ma a condizione che venga messa in sicurezza. L'ente ha richiesto l'installazione di telecamere per la videosorveglianza per evitare il verificarsi di altri fenomeni di vandalismo e violenza. Tal adeguamento richiederà almeno altri 30 giorni, quindi la stazione di Sant'Antonio, in attesa della conclusione dei lavori, non potrà aprire entro il prossimo mese. Grazie a tutti.